Amici di SportU, benvenuti ad una nuova puntata di Speed on Ice una puntata dove andremo a vedere quello che è successo nell'ultimo weekend sulle piste per quello che riguarda la federazione di Bob e Skeleton e soprattutto per quello che riguarda la federazione di Slittino per oggi il mio compagno di viaggio sarà Lorenzo Bilotti che lo conoscete tutti molto bene ciao a tutti frequentatore di SportU partendo dall'atletica leggera per il nostro punto di riferimento all'atletica leggera poi diventato un punto saldo ormai si è diventato il veterano della squadra di Bob suona brutto sentircelo dire però è la ruota che gira è la ruota che gira è la ruota che gira comunque prima di tutto parliamo ovviamente della squadra italiana una stagione estiva che è andata per il meglio per quello che riguarda la preparazione siete arrivati al meglio all'inizio di questa nuova stagione sì assolutamente sì è stato un inizio di quadriennio direi più che una semplice estate è stato un inizio di quadriennio in cui tutti in primis i tecnici e i dirigenti hanno messo secondo me veramente le basi per costruire un programma non solo un progetto ma proprio un programma importante in vista di quelle che sono le prossime annate abbiamo lavorato bene abbiamo cercato insieme al nostro responsabile insomma della preparazione che è Giovanni Mulassano di capire dove si poteva tentare di cambiare qualcosa cercando di dare stimoli magari anche diversi e sembra insomma che i risultati da test che abbiamo fatto anche grazie al CONI piuttosto che dalle prime gare insomma sembra che questi risultati diano diano insomma un valore importante in crescita e quindi ci siamo lanciati grazie a quest'estate in una stagione che sarà sicuramente importante ecco come dici tu una stagione una prima stagione per il nuovo quadriennio che arriverà con le Olimpiadi di Cortina quindi le Olimpiadi in casa tra parentesi c'è ancora un po' l'incognita della pista perché ancora non si è ancora sicuri che si potrà fare questa Olimpiadi sul tracciato di Cortina d'Ampezzo incrociamo le dita la decisione da parte della federazione di partire dalla Coppa Europa non andare in Nord America per questo inizio di stagione dove stanno succedendo delle cose che poi voglio proprio parlarne con te perché ovviamente con delle piste dove non si va frequentemente e piste particolarmente difficili c'è qualche sorpresa comunque partiamo con l'inizio della vostra vostra stagione in Coppa Europa si è partiti da Lillehammer con due gare di Boba 2 adesso vediamo un pochettino i risultati questa è la la classifica il ranking in questo momento per quello che riguarda il Boba 2 tracciato di Lillehammer che è uno dei tracciati dove normalmente si va proprio per l'inizio della stagione quindi anche la squadra italiana lo frequenta abbastanza frequentemente questo tracciato sì negli ultimi anni proprio negli ultimi due stagioni in realtà no però storicamente è una pista dove inizio stagione tendenzialmente se possibile per via di Coppa Europa o con la disponibilità eventualmente di fare discese di allenamento è una pista in cui si va che comunque è una pista da quello che io vedo negli anni andandoci dove come dire è una buona pista per iniziare è un buon punto di partenza e devo dire che in realtà secondo me è stata comunque una buona palestra per tutti per i nuovi che sono arrivati per capire già per toccare con mano già che cosa fosse il Bob realmente per i nostri piloti e devo dire che nel Bob a due soprattutto durante tutta questa prima parte di Coppa Europa e anche soprattutto da Lillehammer dove non dico che ci siamo stupiti però abbiamo visto comunque cose molto positive insomma è stato un buon trappolino di lancio ecco e sono arrivati subito i due podi da parte dell'equipaggio con Patrick Valgarda assolutamente sì questo penso che sia la nota più positiva dell'inizio di questa stagione diciamo che sia in spinta c'è stato un buon miglioramento da parte di Patrick perché comunque sappiamo insomma quanto lui si impegni quanto lui si sia allenato dal punto di vista della preparazione atletica in questi anni e si sta anche lui secondo me piano piano avvicinando a quel livello di competitività necessario anche in spinta grazie anche soprattutto a quelli che nelle prime gare hanno gareggiato con lui nel Boba 2 che sono Eric Fantasini e Robert Mircea che gli hanno dato la possibilità anche nel 2 di essere molto più vicino alle spinte che contano e questo poi inevitabilmente soprattutto nel Bob Moderno ti porta a poter competere lungo tutta la discesa fare la differenza e col 2 si è espresso molto bene si è espresso molto bene a Lillehammer si è espresso benissimo benissimo ad Altenberg perché quando i tedeschi ti stringono la mano e ti dicono che scendi molto meglio dei loro piloti che tra l'altro alcuni sono anche di casa bisogna sicuramente dare a Cesare quel che è di Cesare insomma Patrick è stato molto bravo e poi sicuramente ci sono delle note positive anche nella gara di Innsbruck dove magari si è tentato di provare qualcosa di nuovo e quindi ci sta poi soprattutto in una prima parte di stagione di Coppa Europa magari lasciare qualcosa insomma dal punto di vista del risultato però penso che la costanza nella qualità e la costanza nella progressione nel miglioramento delle spinte soprattutto nel Boba 2 sia sia una cosa molto importante ecco sì ovviamente Patrick le sue doti dal punto di vista della guida le conosciamo davvero molto bene su una pista come quella di Eagles si riesce davvero a fare poco la differenza sì assolutamente sì si fa si fa molto meno si fa molto meno quindi questo sicuramente fa capire che ancora c'è un pochino di margine però in realtà io penso io la cosa più positiva che noto a parte considerando anche il Boba 4 dove i risultati sono stati un po' altalenanti ma in realtà secondo me molto più per prove per inserimento di nuovi ragazzi che è giustissimo secondo me e prove di materiali e tutto secondo me è quello che è importante ad alto livello in cui vorremmo raggiungere arrivare noi e la costanza la costanza nel margine di errore nel buona prestazione quindi farla bene ma quando sbagli non farla troppo male nelle spinte cercare di stare lì quindi a parte la seconda gara di Lillehammer dove è stato un po' un punto di domanda perché per esempio anche nel Boba 4 abbiamo faticato di più quando il giorno prima avevamo fatto una spinta importantissima quello è fondamentale quindi secondo me noi siamo adesso veramente parlo sia per i frenatori che per i piloti coscienti che la costanza nella prestazione è fondamentale quindi anche qui dovremmo cercare insomma di fare quel salto di qualità che penso che si stia cercando di fare che si stia anche vedendo e quindi immagino siate lì a fremere per la ripresa della Coppa del Mondo a gennaio quando vi ritroverete a fianco a fianco invece con quelli che in questo momento sono stati in Nord America fino a questo weekend realmente quali sono quali sono i valori con loro assolutamente sì oltre Patrick anche Mattia Variola cosa ci puoi raccontare della situazione di Mattia in questo inizio stagione beh Mattia penso che abbia lo stesso obiettivo della maggior parte dei ragazzi in squadra soprattutto di chi c'è da più tempo quindi quello che ti stavo proprio dicendo riguardo costanza prestazioni in crescita e tutto io penso che abbia avuto un pochino più di difficoltà un po' per qualche intoppo durante la preparazione atletica nel periodo estivo il che è probabilmente un po' di insicurezza o qualche fatica in più dal punto di vista sicuramente della prestazione fisica quindi nella spinta glielo può aver creato la nota positiva è che perlomeno due componenti su tre del suo equipaggio sono sono gli stessi della scorsa stagione quindi in questo caso Delmassobo e Pagnini c'è stato l'inserimento di due ragazzi fondamentalmente nuovi uno aveva già fatto una parte di Coppa Europa l'anno scorso con l'Antoni Fabio Batt invece è un ragazzo che è stato selezionato durante i test estivi ed è stato inserito con con Variola quindi da questo punto di vista qui l'obiettivo Costanza è un pochino più faticoso perché chi non conosce bene il Bob probabilmente fa fatica a rendersene conto ma la il costante lavoro insieme la fiducia nel compagno il fare le cose quasi come un automatismo sicuramente portano a fare la differenza e a togliere centesimi sia in spinta che probabilmente secondo me anche in serenità per il pilota poi nella guida quindi probabilmente questo un po' gli è mancato ma credo che in realtà dipenda molto da lui e da loro in questo caso nell'essere positivi nell'avere fiducia l'uno nell'altro per cercare insomma di avere una seconda parte di stagione soprattutto in Coppa del Mondo più positiva ecco dopo c'è anche Alex Vergider che ha iniziato il suo percorso da pilota assolutamente sì lo ha iniziato da poco veramente da poco so per per anni quanto abbia desiderato questo momento lo so da compagno a distanza e da amico insomma ne abbiamo parlato tanto di questo ipotetico passaggio e credo che sia quello che voleva e quello che in realtà si merita perché lo vuole con tutto se stesso e in realtà penso che quello che ha fatto tra gli allenamenti e le gare abbia con quello che ha fatto insomma lo abbia dimostrato quindi adesso poi starà lui crescere ancora perché sicuramente è indubbio che sia necessario crescere però ha fatto già vedere cose molto importanti devo dire e allora Lorenzo con te vorrei andare appunto a vedere quello che è successo questo weekend a Lake Placid diciamo un tracciato due volte olimpico anche se diciamo il tracciato che viene utilizzato adesso è stato completamente rifatto proprio perché soprattutto i Boba non ci stavano più dentro dei tracciato utilizzato l'ultima volta nel 1980 l'Olimpia di 1980 e per quello che riguarda il Boba 2 la situazione non è cambiata tantissimo Johannes Lochner e Francesco Friedrich continuano a farlo un pochettino da padrone su un tracciato che però ha creato non pochi problemi anche a Friedrich dal punto di vista della guida sì assolutamente sì e continua a creare dei problemi anche ai grandi piloti io io a Lake Placid sono stato solo una volta e devo dire è un frullatore quella pista in realtà tutti gli europei compresi i grandi quindi in questo caso possiamo menzionare Lochner Friedrich insomma quando incominciano ad andare in America e Nord America portano molto più rispetto probabilmente la pista di Salt Lake City probabilmente un pochino meno nel senso dal punto di vista dei problemi se ne pongono un pochino meno anche se so che poi ne hanno avuti però sicuramente sono piste sono piste complicate anche perché ci vai poco quindi le provi poco e devo dire che io ho guardato tutte le gare ieri sera ho guardato la gara di Boba 4 il giorno prima quella di Boba 2 sono rimasto colpito perché comunque quel discorso che facevamo di costanza loro loro riescono sempre a mantenerlo sia che la loro settimana sia difficile per quello che so da amicizie in altri team insomma sia che la loro settimana vada liscia insomma loro sono sempre lì e quello è molto importante poi devo dire che incomincia un po' stupirmi ma neanche troppo il fatto che Friedrich non sia sempre nella prima spinta questo secondo me spiega tante cose che a volte sono successe un po' anche in Italia nel senso purtroppo purtroppo insomma lui quest'anno ha comunque anche un nuovo frenatore che ogni tanto inserisce sta cambiando un po' le posizioni dei vari interpreti chi faceva i freni fa l'interno chi faceva l'interno non corre con un frenatore nuovo qualche centesimo lo lasci qualche centesimo lo lascia per strada anche lui che è un marziano e logicamente se poi gli altri stanno lì con te o addirittura meglio facendo una buona discesa poi se la giocano anche con lui ecco ieri è stato stupefacente i tedeschi sono maestri dal punto di vista della programmazione quindi il fatto che sia una stagione post olimpica la prima stagione di un nuovo quadriennio probabilmente si sono anche presi un pochettino più di vacanza rispetto agli altri anni un po' tutto il team assolutamente sì guarda io so che per certo ci sono atleti che fino all'ultima settimana di luglio quasi non si sono allenati o si sono giusto mossi ecco ed è logico che essendo in un inizio di quadriennio poi si cerchi anche di inserire nuove figure però insomma quindi qualche centesimo magari lo lasci per strada ma questo per dire che è sicuramente un team soprattutto come quello di Francesco Friedrich molto molto affiatato e che io da quando faccio Bob corrono sempre gli stessi tre frenatori alle spalle praticamente parte Schuller che sono quattro anni ma gli altri due sono sempre loro sicuramente questo sposta questo fa la differenza e te ne accorgi te ne accorgi perché poi quando ne cambia anche solo uno non è la stessa cosa ma siamo all'inizio di un quadriennio quindi sicuramente avranno programmato come farlo in una maniera migliore si 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 tiene molto stretto Thorsten Bargis perché lo mette come numero due ed è importantissimo per un pilota avere un numero due collaudato che non ti dia fastidio durante la discesa assolutamente questo weekend ma già nei weekend scorsi è stata un po' la sorpresa in positivo di questo inizio stagione è Brad Hall della Gran Bretagna che ha fatto il nuovo a due con Kaket invece che con Taylor Lawrence che dal mio punto di vista è davvero un animale una bestia assolutamente sì fisicamente è una bestia guarda io devo dirti non lo avrei mai detto perché più o meno due stagioni fa lui per un problema dell'ultimo minuto di un frenatore di Brad Hall ha incominciato a scendere con lui perché scendeva con un pilota delle armi in Coppa Europa e non era niente di che era fisicamente un colosso ma veramente ti dico quasi faceva fatica a muoversi però adesso è veramente straripante e poi quello che comunque indubbiamente fa la differenza se tu hai un pilota da più di 100 kg e da un frenatore da più di 110 stai abbastanza sereno stai abbastanza sereno nel muovere il bob ecco e infatti te ne sei reso conto quando due giorni fa correndo Kaket che è indubbiamente dei frenatori che hai il più forte e il più veloce perché questo è evidente sia per trascorsi atletici ma insomma a livello cronometrico è molto importante sono molto importanti le sue prestazioni te ne rendi conto perché in realtà con Taylor Lawrence fa la prima o la seconda spinta con Kaket fa la terza o la quarta probabilmente ma sai ci sono 20 kg sul bob in più e comunque li devi spostare quindi anche quello a livello di centesimi ha la possibilità anche di fare una scelta in base alla tipologia del pistino se è un pistino molto piano dove la forza è più importante usa Lawrence se invece c'è bisogno di capacità della corsa usa Kaket che infatti lo usa come frenatore nel quadro assolutamente sì e devo dirti che un po' mi ha stupito la scelta che ha fatto di non correre qui con Lawrence e soprattutto di non correre con Kaket a Whistler ma in realtà un motivo c'è nel senso che Kaket era bloccato con la schiena Whistler ha avuto un problema è stato fermo praticamente una settimana per cercare di fare il bob a 4 che poi ha fatto perché Whistler sarebbe stato il pistino perfetto per Bredol e Kaket ci sono 7-8 metri di leggera pendenza e poi è una discesa impicchiata praticamente quindi probabilmente lì paghi molto meno in spinta che un late play l'Asid che è una via di mezzo comunque anche Park City infatti dove poi Park City comunque con Lawrence ha fatto bene anche a Whistler in realtà ma io penso con Kaket avrebbe fatto la differenza a Whistler e un'altra piccola sorpresa ma non diciamo per me è abbastanza piacevole è fatto di Cedric Follador della squadra svizzera svizzera italiana quindi un pochettino lo sentiamo abbastanza vicino che ha fatto un garone ha fatto un garone questo in realtà ci fa capire che se fai le cose bene in realtà puoi essere lì puoi rimanerci è il solito discorso di Costanza di cui ti parlavo prima sicuramente non è facile lui con una spinta giusta normale facendo un'ottima discesa ha dimostrato che ancora in alcune piste si può comunque mi viene da dire mettere una pezza perché una volta probabilmente avreste detto fare la differenza con la guida adesso probabilmente con la guida ogni tanto ci metti una pezza perché se parti troppo dietro non è che puoi fare chissà che però ha fatto un garone ha fatto una bellissima discesa e tra l'altro devo dire molto bravi perché ho visto ho visto tutta la gara e hanno spinto in una determinato tempo mi sembra 5-23 la prima manche e poi devo dire ci possono essere le pressioni prima volta nei primi sencopa del mondo se a Lake Placid che hai 10 discese perché la prima volta che ci vai fai 5-18 la seconda se non sbaglio e comunque fai un'ottima discesa quindi questo vuol dire che a livello competitivo erano belli presenti ecco erano belli determinati e riuscire a portare a casa questo risultato a portarcela a casa quindi non ci resta che aspettare ovviamente gennaio con l'inizio con la coppa del mondo che torna torna in Europa però è successo in Nord America è successa altre delle belle cose per i nostri cugini dello slittino perché sono arrivati dei risultati pazzeschi da Park City dove si è andata a trovare un'altra vittoria per quello che riguarda questa nuova disciplina del doppio femminile che l'Italia l'ha letto molto bene perché ha creato questo nuovo equipaggio perché Andrea Wetter e Mario Noberhofer fanno il singolo e quest'anno hanno creato il doppio perché invece l'anno scorso aveva partecipato a queste gare di coppa del mondo che però non erano collegate le altre la Falke Steiner e un altro atleta però si è rivelato davvero una scelta vincente hanno creato un team probabilmente molto più competitivo sicuramente hanno lavorato molto in estate da quello che so abbiamo passato anche del tempo insieme a Cesana e hanno lavorato molto su questo sicuramente per quello che posso sapere dei nostri diciamo cugini dello slittino non sono andati poi a scegliere giusto per scegliere quindi hanno puntato hanno puntato bene anche su questa su questa competizione come è giusto che sia alla fine fare molti esperimenti non so neanche sempre quanto senso abbia sicuramente in maniera decisa avranno avranno puntato a fare un programma molto importante quindi hanno messo degli interpreti adeguati ecco chiaro perché comunque Andrea Wetter ha difficoltà a riuscire ad emergere nel singolo poi anche gli Stati Uniti hanno provato a fare questo mix perché Samer Britker e Emily Sweeney sono due atlette del singolo che avevano comunque trovato dei buoni risultati avevano deciso di smettere però sono tornate alle competizioni proprio per creare il doppio femminile e però non sono riusciti a trovare i risultati appunto di Andrea Wetter e Mario Noberhofer che vincono anche questa gara di di Park City e poi è arrivata la vittoria anche per Dominic Fishnaller nel singolo quindi è un risultato strepitoso per la squadra italiana cosa dobbiamo dire torniamo sempre su quel discorso sono anni sono anni che è lì sono anni che dimostra di poterci stare con medaglie e risultati importanti e quindi e quindi ormai non stupisce anzi ormai sono anni che non stupisce ma in attesa di appunto vederlo sempre a battagliare e adesso adesso forse quella l'unica sorpresa in realtà ci ha sempre girato un po' attorno adesso io penso che inizia a stabilizzarsi lì ed è molto importante ma sai anche io lo vedo su me stesso su alcuni di noi su altri livelli magari fino ad ora però anche con gli anni che passano qualche esperienza in più aver vissuto certi momenti io credo anche la medaglia soprattutto a lui non dico che abbia tolto un peso però impari a gestire momenti importanti anche in una maniera diversa sicuramente ci sono state anche le gare sprint nel doppio femminile sono arrivate seconde alle spalle della Egle e della Kip che è l'altro equipaggio austriaco che invece avevano dominato nella tappa inaugurale sul tracciato di casa di Eagle comunque grande prestazione nella gara sprint Dominic Fishtan ha trovato un'altra vittoria davanti a Gleischer e a Locke quindi è andato a confermare davvero lo splendido stato di forma per l'atlete italiano qui vediamo le classifiche fino a questo momento per quello che riguarda il singolo femminile Andrea Fötter è in settima posizione una classifica guidata da Giulia Taubitz che non è ovviamente una novità davanti alla Egle e a Emily Suini che invece è tornata sui tracciati di casa a trovare dei buoni risultati Andrea Fötter e Mario Noberofer sono in testa alla classifica di Coppa del Mondo la overall che quindi prevede sia le gare sulle due manche che le gare sprint davanti alle austriache e alla squadra tedesca e il nostro Dominic Fishtan era in testa alla classifica per quello che riguarda il singolo maschile quindi davvero situazione splendida per andare a festeggiare le feste natalizie direi assolutamente sì direi che hanno fatto quasi come si dice quasi capotto hanno fatto insomma si stanno portando stanno portando a casa importantissimi risultati ma credo che dalla squadra di Slittino non ci si possa aspettare altro nel senso sono anni che stanno costruendo questi giovani che ormai sono diventati delle certezze e quindi penso che mi auguro per loro e penso che continueranno così Lorenzo io ti ringrazio tantissimo della disponibilità per essere qui con noi quest'oggi ovviamente ti faccio gli auguri per un buon Natale un felice Capodanno e un grandissimo in bocca al lupo per l'inizio della prossima stagione grazie a te tanti auguri anche a te la seconda parte di stagione in coppa del mondo assolutamente sì dai tra i grandi cercheremo di di farci notare di di crescere un po' ancora dai quello è l'obiettivo grazie ancora Lorenzo ciao 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 Grazie a tutti.